bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono abbiamo qui il 99 e oggi siamo su non dico su basso se non ricordate ce l'avevamo lasciati con questo vecchio cioè abbiamo ucciso quella specie di coso gigante un nemico gigante non so se sinceramente non mi ricordo perché tanto come facciamo questo basso e comunque abbiamo preso anche la cosa come si chiama lancia a fiamme e niente adesso abbiamo il tumora abbiamo anche il vecchio come amici un altro giorno la faremo una missione la viva ragazzi un altro giorno ve la farò vedere vediamo un po' intanto vogliamo fare un'altra missione e cerchiamo che spottato un peccato carriendo una scuola in montagna ma ragazzi finalmente ho capito eh colline di tiratori e no poi questo è un campo addestramento ah fino a qua eccola qua è nascosto dalle rovine e la montagna sagra un tempo ricco di flore e fauna ok vogliamo i lancheddi e rabbò se non mi fai leggere non puoi dire il manto zand è una montagna ragazzi io volevo dire intanto che sinceramente non trovo tutto questo bisogno di fare il video con l'america c'è li faccio sostanto indeterminati oh cazzo la rana di merda oh finalmente posso incendiarla senza dover la fede è morta bene bene è morta cioè ragazzi siamo tra le plasche non si vede nulla cazzo oh e dai no hai morto le palle hai morto le palle via 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 ecco sono morto si ma se non mi lascia non c'è ragazzi non vedo un cazzo le palle un altro e poi un altro ok si ma la dovete smettere di fare un altro ma io non si può andare con questo c'è c'è gli unici che possono ammazzare questi sono il ciappone c'è una ciappone ragazzi che non sono di bestiali c'è ammazzo tutti queste cose c'è ragazzi non si vede un cazzo c'è un problema ma da roba avuta per cominciare appunto le armi c'è un macchino è una situazione delicata lasciate in pace voglio solo stare tranquillo grazie ragazzi stavo dicendo aspettate un secondo perché voglio vedere se youtube mi ha dato il permesso di fare video più lunghi di 15 minuti se me l'ha ridato dato tutto quel casino col copyright che era successo torno subito ragazzi ho controllato la funzione del copyright mi scade a 5 giorni esattamente di 27 giorni un momento dovevo finalmente fare i video di 15 minuti ok intanto andiamo avanti vieni 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 si può fare anche una o più missioni nel gioco si si vieni qua ti becco con l'altro vieni hand shot vieni andiamo di qua grazie 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 ma no no ragazzi io proprio adesso non c'è fiamma nooo una scoteggiatura atomica tutta schifosa ma no quello è con c'è ragazzi che non c'è fiamma è spettacolare per qualsiasi cosa ce la potete usare per fare tutto l'unico lo best thing we can do for those beasts right now lo best thing we can do for those beasts right now is put them down quick and clean usiamo un po' di alberi qui vediamo che le siamo passate qua non so se si no dovremmo andare avanti da qua vediamo un po' non so se mi sentite bene c'è solo un tipo di meravigliosi che chiesto che chiesto cosa oddio oh che figata c'è ragazzi che figata che figata che cosa ah mortario del veliero figo figo scramofo sublime che città c'è ragazzi guardate che bomba che fa ragazzi no merda nooo si comincia la zona ok vediamo un po' che cazzo ho ripreso il mortaggio se lo morto una donna ti vedrai che le favore si è riuscita io a quei piccioni non li voglio riservare per nessun motivo c'è proprio per nessun motivo i ragazzi che c'è ragazzi no quei piccioni no non li voglio niente riservare sto cazzo si suca pezzi di merda questo effetto io suca sa che ti tipisci che non si tratta ok ciao ragazzi mi semplifica molto la vita questo cosa che è che è questa cosa uno 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 non solo oh benissimo ha fatto ciao ciao pezzo di merda non è possibile spiegarlo a una pezzo esatto 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 se mi abbono capisco troppo bello servo alle spide di plasma oddio glielo rimandato in via abbiamo cercato per cori e sciardi proprio come abbiamo qui ho Ted adesso ok eh abbiamo qui dov'è che mi porta? ah abbiamo avuto la partiglia che è sta cosa ragazzi che è no 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 va in mono va in mono cazzo cazzo ma chi è che scorreggio? oddio ragazzi no ma chi è che scorreggio? non c'è perciò non c'è non c'è non c'è ah non ti preoccupare ok c'è ragazzi ma non è buono povero ma come confrontativo a bambu vi bello offense pastiche scimpi ti devi alzare eh si ok al momento si sta la me ne va ridotto molto male ok cominci a fare subito domande alla zia questo qua era uno di quei cosi che faceva suonno quelli per la musica credo sia vero che una piccola piazza può mettere cose in perspetta ok con questo ragazzi io voglio sentirevi magari ragazzi di pechino fondamenta si dai il memoriale potrebbe essere finito ma la nostra parte è molto di più il memoriale ricompensa come faccio qua ma già quello per tutte le sfide che io si conosce la mente non ci voglio non mi va di fare le sfide questo me lo tengo eeeh dove tempo blocchi di fiattodumento tutti le attacchino a vivo mi ha detto questo beh se non puoi farlo puoi sempre farlo per la madre ok solo un paio di città il cuore deve avere uno ok 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 l'info un tempo c'erano numerosi tesori simili in questa risorsa strategica c'erano 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 ok andiamo ragazzi faccio questa missione e poi chiudo l'episodio immagini 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 tutto che bisognavi per creare una città come Ceylandia c'erano 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 c'erano